La gamma di lame Jepson è una delle più complete sul mercato. Partiamo da 137 mm fino a 630 mm, sia per macchine manuali che per macchine industriali. La gamma è sia per le macchine Jepson ma anche per macchine della concorrenza come Milwaukee, Bosch, Makita, Panasonic. Sono tutte lame con il dente alviria riportato e sono particolarmente prestanti per le ridotte vibrazioni che trasmettono al macchinario. Esistono lame per l'acciaio inox così come lame resistenti agli urti e agli impatti. Jepson è il leader per il taglio a secco dell'acciaio e le sue lame sono tra le più performanti sul mercato. Potete scoprire la nostra promozione sulle lame Jepson sulla nostra pagina Humberger al link dedicato. Ciao!